C'è anche una bocca quando parli con me, eh? Io c'ho una licenza elementare che oggi come oggi è un bel pezzo di carta, non è qualcosa di qualsiasi. Eh! Che? Oddio! L'Ulufo! L'Ulufo! Ma che fai? Non mangi, voglio stare a leggere, ho provato la prascia per i saci, ci. Uno, due, tre, quattro, cinque, che palle sono tutti uguali. Insomma, per fare la prima, è il pecoraro del futuro, eh? Non si fa più il culo che siamo noi per fare la transumanza, quello per spostare le pecore, ci clicca sopra! Sì! 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 Sì!